Violazioni in materia di sicurezza e lavoratori assunti in nero nel cantiere dello stadio comunale Fedini di San Giovanni Valdarno. Sono così scattate denunce e multe per oltre 20.000 euro. I carabinieri, nel corso di un controllo, hanno infatti individuato una serie di presunte violazioni dalle assunzioni in nero ai lavoratori non formati in materia di sicurezza, dalla mancata redazione del piano operativo di sicurezza all'assenza di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, il tutto moltiplicato per due, in quanto due erano le imprese edili attive sul cantiere. Identificati anche due lavoratori che soggiornavano illegalmente nel territorio nazionale, che sono stati così denunciati a cinque persone. Poi, oltre alla denuncia penale alla Procura della Repubblica, sono state elevate sanzioni per quasi 24.000 euro. Una ditta è stata chiusa per aver impiegato i lavoratori senza contratto. L'amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno, intanto, precisa che al momento, a RUP, responsabile unico del procedimento, non è stata notificata nessuna contestazione dagli organi di controllo. Dalle informazioni in possesso dell'ente, le notificazioni sono nei riguardi esclusivamente delle due imprese edili. Inoltre, i lavoratori irregolari non risultano nell'elenco degli operai autorizzati all'accesso al cantiere. Gli interventi allo stadio, dunque precisa l'amministrazione comunale, non subiranno interruzioni e proseguiranno come da programma.